Io rientravo dall'infettura dopo dieci giorni e è stato importante l'apporto della squadra, il sistema mi hanno sostenuto fin dall'inizio, sapevo che non era facile, dopo dieci giorni fermo di entrare per uno spiegamento, sono rientrato con tutta l'opportunità, lo supporto dei miei compagni e vi ringrazio tutti, è stato un anno difficile veramente per me.